bella regà qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi car to car in solo ragazzi avremo bisogno del bunker e dell'auto officina quindi bunker ragazzi auto officina con all'interno i veicoli dei civili già pronti nei loro posti il veicolo da cui prendere le modifiche è quello da sacrificare dove vi pare quindi entriamo all'interno del bunker raga e usciamo di nuovo dal bunker questo è il primo step intanto vi voglio far vedere raga l'avete notato il tizio fuori un random devo dire che ogni tanto qualche random buono con cui calzeggiare nella free mode si trovano ancora figo veramente una cosa carina raga allora vi voglio anche dire ricordare dell'estrazione che ci sarà sabato alle 16 e 30 per l'account moddato il contest dei 3k raga in live ci sarà anche un elenco attività quindi mi raccomando xbox next gen approfittatene per le attività invece l'account sarà un account o per xbox one o xbox next gen o per ps5 raga lo sapete già l'escrizione è andata a buon fine abbiamo raggiunto il numero prefissato e quindi niente sabato alle 16 e 30 ci sarà l'estrazione vi voglio anche ricordare raga dei format aiutate il savix supportate la serie iscrivetevi al canale delle esplorazioni raga ogni domenica mi vado in briccare da qualche parte tra l'altro l'ultima domenica mi sono fatto male e niente raga sarebbe gradito un mi piace a questa tipologia di format che sto portando ogni settimana per sostenere il canale quindi ragazzi una volta arrivati all'autofficina io entrerò stesso con questa auto raga perché proviene dall'autofficina e quindi una volta che siamo all'interno cosa dobbiamo fare semplice raga scegliamo il veicolo da cui prendere le modifiche questo step in realtà potete anche schipparlo ma io vi consiglio di farlo lo stesso ascoltatemi bene tanto per iniziare dobbiamo diventare membri della sicuro server quindi membri del ceo io ora sono una pubblica quindi mi sono dovuto fracassare raga per diventare membro del ceo finché dopo circa due o tre minuti sono riuscito a diventare membro della sicuro server a questo punto una volta che siamo diventati membri della sicuro server cosa dobbiamo fare raga dobbiamo andarci a scegliere il veicolo ci salite sopra io vi consiglio di fare freccia destra e fare una modifica potete anche saltarlo se volete questo step e poi raga cosa dovete fare dovete andarvi o a chiamare dax o a chiamare toni io in questo caso toni non ce l'avevo perché l'avevo tolto raga dal menu interazione quindi mi andrò a rimettere veloce veloce toni e poi faccio freccia destra per entrare nelle modifiche tornerò a posto ragazzi e a questo punto poi possiamo chiamare toni o dax ragazzi se chiamate dax il tempo sarà più lungo perché se non sbaglio le attività di dax sono più lunghe di 20 minuti invece quelle di toni sono più corte quindi chiamiamo toni ragazzi e una volta che abbiamo chiamato toni cosa facciamo in alta sinistra avremo questa tendina clicchiamo una volta a o x e poi clicchiamo subito dopo due volte frecce a destra ragazzi ci darà questa animazione che ci fa entrare dentro le modifiche stiamo qualche secondo in questa schermata e poi da soli raga ci farà rispaunare a posto a questo punto scendiamo dal veicolo e andiamo dal veicolo del civile che vogliamo moddare ragazzi e a questo punto clicchiamo freccia destra e quindi sbada bam avremo moddato facile facile veloce veloce il veicolo del cliente in solo ora come state vedendo in basso a destra ci sono 19 minuti da aspettare ragazzi cosa vuol dire che finché non finisce quel timing noi non possiamo comprare la macchina ci ho provato in tutti i modi ho partecipato su anawak sono andato nel menu delle modifiche delle auto ho provato a modificare un'auto fatto di tutto raga non possiamo fare niente dobbiamo per forza aspettare il tempo cosa possiamo fare volendo per non aspettare il tempo fare entrare un amico all'interno dell'officina raga e fargli comprare il veicolo a lui e in questo modo non aspetteremo il timing ok ragazzi e se volete moddare basta poi che cambiate lobby o andate al creatore e tornate nella lobby in cui siete quindi ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like lasciate un commento supportate xavix e condividete i miei video da tutte le parti e alla prossima sbada bam iscriviti al canale iscriviti al canale